Ancora oggi il messaggio della Chiesa è il messaggio del cammino della franchezza, del cammino del coraggio cristiano. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata a Santa Marta. Come sperimentarono gli apostoli dopo la risurrezione di Gesù, ha aggiunto il pontefice, solo lo Spirito Santo è capace di cambiare il nostro atteggiamento, la storia della nostra vita. E questo coraggio dell'Annunzio è quello che ci distingue del semplice proselitismo. Noi non facciamo pubblicità di Gesù Cristo per avere più soci nella nostra società spirituale. Questo non serve. Non serve. Non è cristiano. Quello che il cristiano fa è annunziare con coraggio. E l'Annunzio di Gesù Cristo provoca, mediante lo Spirito Santo, quello stupore che ci fa andare avanti. Che ci fa andare. Che ci fa andare. Che ci fa andare. Grazie.